La vicenda dell'ormai ex vicepresidente della regione, Luca San Martino, pare non inciderà sul destino della Lega a livello cittadino. Il gruppo dei salviniani infatti si prepara a presentare una lista a supporto del centroestra ufficiale con il candidato a sindaco Grazia Cosentino. Il consigliere comunale della Lega Emanuele Alabiso è tra i salviniani che si ripresenteranno allo start per le urne d'inizio giugno. Conferma appunto che si ricandiderà. La lista è a buon punto anche se non si conoscono tutti i nomi, così specifica proprio Alabiso. Tra i leghisti in questa fase non sono mancati distingue possibili addi. Il coordinatore provinciale Loretto Ogni Bene si è dimesso mentre il candidato a sindaco di cinque anni fa, il consigliere comunale Giuseppe Spata, pare prossimo a sostenere l'alleanza per Gera con la guida di Salvatore Scerra che corre per la poltrona di primo cittadino. La Lega è invece nella coalizione appunto del centroestra ufficiale insieme ai partiti che stanno con l'ingegnere Grazia Cosentino. Alabiso si fida soprattutto delle indicazioni del commissario Durigone e di Matteo Franciglia che hanno appunto dato delle direttive ben precise al partito anche sul piano locale. Alabiso invece ribadisce di non conoscere le ragioni che hanno portato alle dimissioni del coordinatore provinciale Loretto Ogni Bene. Ribadisce comunque che la lista della Lega ci sarà e sarà anche competitiva. In questo frangente, nelle trattative per conto dei salvignani, un ruolo lo sta avendo il commercialista Ennio Di Pietro, tesserato con la Lega e molto vicino ai vertici regionali del partito ad iniziare dall'ormai ex appunto vicepresidente della regione Luca San Martino. Rispetto al 2019 il peso del partito in città è sicuramente di minore impatto rispetto al ruolo assunto da Fratelli d'Italia. Nessuno dei gruppi ufficiali comunque ha espresso un candidato di bandiera affidandosi appunto all'outsider Cosentino.